Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Livorno, sempre in FIPILI per lavori di manutenzione e chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Scandicci in direzione Mare fino alle 16 di domani. Sul raccordo Siena-Firenze restringimento di carreggiata tra Poggibonsi e Tavarnelle. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola, fino all'11 febbraio transito e sosta nel controviale tra Viaggiotto e numero civico 48 interrotti all'altezza del cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!